Ciao a tutti e bentornati su LearnAmo. In questo video parleremo di uno degli scienziati italiani più famosi al mondo, conosciuto come il padre della scienza moderna, Galileo Galilei. No, 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 non vi parlerò della sua vita o delle sue scoperte perché penso che queste cose le sappiate già o comunque potete sempre facilmente cercarle su Google. Voglio invece parlarvi di qualche curiosità su di lui. Qualcosa che forse ancora non sapete e che potrebbe sorprendervi. Cominciamo! Nessuno ha dubbi. Galileo Galilei era uno scienziato geniale, soprattutto nel campo dell'astronomia, ma essere molto bravi in una cosa non significa necessariamente che la si sappia spiegare agli altri. Infatti, a quanto pare, Galilei non era molto bravo a insegnare le scienze in cui eccelleva. Per esempio, l'università di Pisa gli assegnò una cattedra per insegnare matematica, ma dopo solo un anno non gliela riconfermò. Il motivo? A quanto pare, le sue lezioni erano troppo complicate da seguire per gli studenti e anche i suoi colleghi trovavano estremamente difficile lavorare con lui. Galileo era perfettamente consapevole del grande rischio di plagio dei suoi studi, perciò aveva trovato un modo ingegnoso per proteggere le sue scoperte. Le scriveva sotto forma di anagrammi, spesso in codice. Per esempio, quando scoprì le fasi del pianeta Venere, nel documento per certificare la paternità della scoperta che Galileo inviò a Giuliano De Medici, scrisse questa roba qui. Ora, questa frase anagrammata si trasformava in questa, che tradotta in italiano significa l'aspetto di Cinzia imita la madre degli innamorati. Cinzia inteso come Venere e la madre degli innamorati inteso come la Luna. Pensate poi che lavoraccio per Giuliano De Medici che poi doveva decodificare tutto per capire il messaggio. La scienza, però, non era l'unico campo nel quale Galileo aveva un particolare talento. Infatti, ce l'aveva anche nella musica, perché Galileo era anche un abile liutista. Infatti, suo padre Vincenzo era un compositore e un teorico della musica, quindi fu proprio lui a insegnare a Galileo a suonare il liuto. Una delle scoperte più famose di Galileo Galilei è quella dei quattro satelliti maggiori di Giove. Eppure, per molto tempo, si pensò che quella scoperta fosse di un altro. L'astronomo tedesco Simon Marius. Perché c'è stato questo grande malinteso? Perché i due scienziati avevano documentato la stessa scoperta a distanza di pochi giorni. Marius il 29 dicembre 1609 e Galileo il 7 gennaio 1610. Praticamente dieci giorni di distanza. Però, chiaramente, i numeri parlano chiaro e quindi la data di Marius è antecedente e per questo, per lungo tempo, si è pensato che lui avesse scoperto i satelliti prima di Galileo. Ma poi è venuto fuori che Galileo usava il calendario gregoriano, mentre Marius quello giuliano. Adattando, quindi, la scoperta di Marius al calendario gregoriano, la data cambia e, infatti, la data della scoperta di Marius risalirebbe, così, all'8 gennaio 1610. Esattamente, un giorno dopo, rispetto alla scoperta di Galileo. E quindi Marius ha perso il primato, insomma. Pensate un po', per un giorno di distanza e per una confusione con i calendari. Oltre a diversi strumenti scientifici, Galileo è anche il padre di alcune invenzioni particolari, come un raccoglitore di pomodori. È una combinazione di candele e specchi che serviva a deviare la luce attraverso i corridoi. Però, forse, la sua invenzione più curiosa è un pettinè tascabile che, all'occorrenza, si trasformava in uno strumento per mangiare. Un po' come l'antenato del coltellino svizzero, quasi, se vogliamo. Nonostante non sia mai stato sposato, Galilei ebbe tre figli. Due figlie, Virginia e Livia, e il figlio più piccolo, Vincenzino. Però, lui fu l'unico dei tre a essere legittimato. Mentre le due ragazze non lo furono mai. Principalmente per questioni economiche, perché, a quanto pare, così facendo, quindi non riconoscendole, Galileo non era obbligato a dover pagare in futuro la loro dote per un eventuale matrimonio. E così, sia Virginia che Livia furono accolte in un convento di suore, su richiesta proprio di Galileo. Entrambe presero i voti, ma Livia lo fece malvolentieri. Invece, Virginia sentì proprio la vocazione e divenne una suora di clausura. Galileo, negli anni, è diventato un'icona della pop culture, della cultura pop. Infatti, fin dall'ottocento, la sua figura è stata un po' utilizzata nell'iconografia. Ma la cosa più interessante succede nel novecento, quando la sua figura viene utilizzata nelle pubblicità, nelle campagne promozionali di moltissime aziende. Si poteva trovare su quaderni, figurine, tappi delle bottiglie di Coca-Cola, etichette di bottiglie di brandy e persino nella pubblicità delle gomme Pirelli. E non è tutto, in realtà, perché anche la compagnia Campari, per promuovere il suo bitter, ha deciso di utilizzare la figura di Galileo, in particolare sui cartelloni pubblicitari. L'immagine più frequentemente utilizzata in queste pubblicità è il volto di Galileo, quello derivato dal famoso ritratto dipinto da Sustermans e poi copiato da altri artisti che ne erano ispirati dopo aver visitato gli Uffizi, luogo appunto in cui il quadro si trova. L'esperimento più famoso di Galileo Galilei è sicuramente quello della Torre di Pisa. Si racconta, infatti, che Galileo salì sulla cima e lasciò cadere giù due palle di cannone di diversa massa per dimostrare come la velocità di caduta è indipendente dalla massa del corpo. Cose tecniche. Però, in realtà, la maggior parte degli storici è d'accordo nell'affermare che Galileo probabilmente non è davvero salito sulla Torre di Pisa con due palle di cannone. La maggior parte degli storici pensa che si sia trattato semplicemente di un esperimento mentale, quindi tramite calcoli e non fisico. Un'altra teoria molto famosa formulata da Galileo è quella del pendolo e della sua oscillazione. Ci arrivò osservando a lungo un lampadario nel Duomo di Pisa. Ma qual è la parte più curiosa e interessante della formulazione? Il modo, lo strumento con cui Galileo misurò, appunto, il tempo dell'oscillazione del lampadario. Non usò un orologio, non usò un cronometro, usò per fare i calcoli semplicemente i battiti del suo cuore. Se non è genio lui. Molte delle teorie di Galilei, però, furono considerate eretiche dalla Chiesa. In particolare, i cattolici criticavano Galilei per il suo supporto alla teoria eliocentrica, quella che cioè metteva il Sole al centro del sistema solare, mentre fino a quel momento la teoria valida era quella che vedeva la Terra al centro del sistema solare. Perciò, per le sue tesi e le sue idee, Galilei fu processato e condannato agli arresti domiciliari. Tutte le accuse contro Galileo Galilei sono poi state ufficialmente cancellate dal Vaticano, ma solo nel 1992, cioè quasi 400 anni dopo l'effettivo processo dello scienziato. Ehm, meglio tardi che mai, non credete? Vuoi migliorare il tuo italiano con l'aiuto di insegnanti madrelingua? Prova Italiano Intensivo, il nostro corso di lingua italiana ideato per permetterti di esercitarti e studiare online con i nostri professori qualificati. Le lezioni sono individuali e fatte su misura per te. In più, ti offriamo la massima comodità possibile. L'orario e il giorno delle lezioni lo scegli tu. Scopri di più. Clicca sul link che trovi in descrizione e inizia a studiare con i nostri insegnanti. E voi siete dei fan di Galileo Galilei? Conoscete un po' il suo lavoro, la sua vita? Conoscevate queste curiosità? Sinceramente io non le conoscevo tutte, quindi mentre facevo le mie ricerche per questo video, ho imparato anch'io qualcosa. Fatemi sapere tutto questo nei commenti, fatemi sapere anche se vi piace questo genere di video sulle curiosità riguardo una importante figura della cultura, della storia italiana. Se invece volete scoprire delle altre curiosità su un'altra grande figura fondamentale della cultura italiana, il caffè, potete guardare il video dedicato proprio a lui, al re della pausa italiana. Lo potete trovare qui in alto nella card o giù nella descrizione. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete visitare il nostro sito learnamo.com. Seguite Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram, dove vi aspettano tanti contenuti esclusivi, pillole di italiano quotidiane. E se il video vi è piaciuto, lasciate tanti mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Io vi aspetto prestissimo con un nuovo video. Ciao!